Le mani potenti del fato lo strapparono dal mondo, da dimensioni troppo piccole per lui, lo spinsero oltre il ciglio dell'intelligibile verso la follia, nel cui benigno, diletto, abisso, inondato di luce, popolato di fuochi, fatui, egli sprofondò col suo peso di gigante, per assopirvi sin dolce, perpetua distrazione e oscurità.